ciao ben ritrovati allora andiamo a vedere come si evolverà la situazione economica entro tre mesi qui c'è salomone ovviamente che ci fa compagnia e abbiamo due varianti allora la prima variante è la biglia bianca con le sfumature marroni la seconda variante la biglia verde trasparente vi lascio ancora qualche secondo e poi partiamo eccoci prima variante biglia bianca con le sfumature marroni andiamo a vedere come si evolverà la situazione economica entro i prossimi tre mesi prima di partire ti ricordo che se c'è qualcuno della prima variante che è incuriosito si vuole approcciare al mondo dei tarocchi gli vuole conoscere vuole imparare a leggerli per se stesso per aiutare gli altri come come faccio io e faccio solo percorsi individuali faccio percorsi individuali perché ognuno ha la sua personalità alle sue intuizioni ha il suo modo di interpretare i tarocchi ovviamente sulla base delle conoscenze delle della simbologia che quella rimane uguale per tutti e quindi faccio percorsi individuali sono molto più stimolanti soprattutto per chi impara per chi si approccia a questo mondo se sei interessato vuoi avere informazioni mi puoi contattare su whatsapp al 351 682 44 00 detto questo andiamo a vedere come si evolverà la situazione economica nei prossimi tre mesi e partiamo dagli oracoli prendiamo un oracolo degli spiriti degli animali abbiamo lo spirito del cane al contrario dunque lo spirito del cane parla di lealtà verso ciò che ami no quindi al contrario mi potrebbe dire che potresti non essere per quanto riguarda la situazione economica legato ovviamente a una situazione lavorativa oppure di altro di tipo potresti ci potrebbe essere una non coerenza una non lealtà o una non coerenza con te stesso riguardo ad una situazione appunto legata a all'ambito economico vediamo le feminine wisdom potrebbe volerti dire che se per caso hai c'è un momento di stagnazione dal punto di vista economico finanziario forse devi veramente ascoltarti guardarti dentro ed essere molto leale con te stesso e capire il vero motivo al cestis dare qualcosa di noi stessi per trasformare la situazione la situazione atto di amore e devozione empatia allora queste due carte sia la de al cestis che lo spirito del cane al contrario mi ti anzi ti suggeriscono e ti esortano a essere veramente te stesso affinché tu possa manifestare un'evoluzione della situazione economico finanziaria che cosa significa significa che ci potrebbe essere o potresti avere magari un atteggiamento o ripeto una finta o ingannevole lealtà con te stesso e magari credi di portare avanti qualcosa che fa per te e che si deve sviluppare in un certo modo in realtà qui ti si chiede uno sforzo di di empatia anche nei confronti di della situazione legata a magari un ambito economico finanziario se ci sono se collabori con delle persone se lavori con delle persone insomma qui ti si chiede uno sforzo sforzo di di connessione con te stesso maggiore rispetto a quello che vuoi veramente perché è come che il blocco almeno nella maggior parte dei casi arrivi parta da te soprattutto se parliamo di liberi professionisti ma magari anche in altri ambiti qui vedo come una poi andiamo a vedere i tarocchi però vedo come se l'evoluzione nei prossimi tre mesi economico finanziaria dipendesse da uno sguardo più leale con te stesso nei confronti appunto di della situazione progettuale lavorativa ereditaria di case qualsiasi cosa legata a una situazione economico finanziaria detto questo andiamo a vedere i tarocchi userò the tarot of opposition soggi allora ne sono cadute addirittura due sono meravigliose il mago e il carro quindi vuol dire che c'è una bellissima evoluzione nei prossimi tre mesi un bellissimo avanzamento col carro e il mago che ti porterà veramente a un miglioramento notevole della situazione economico finanziaria il mago è anche l'alchimista è colui che mette insieme tutte tutti gli strumenti e fa proprio un'alchimia per poi creare qualcosa quindi mi viene da dire che tu riuscirai a capire dov'è l'inghippo che cos'è che magari devi correggere o modificare vediamo bellissime carte il mago e il carro sono veramente ottime allora la torre e abbiamo già tre arcani maggiori ragazzi e quattro di denari e il sei di denari molto interessante allora la torre con il quattro di denari subito dopo vedete questo questo uomo che si tiene a strettissimo questo questa moneta no che cosa significa significa che vi accorgerete che dovete far crollare è come se è come se tu pensassi troppo al denaro come aumentare il denaro come migliorare la situazione economica cioè se il pensiero fosse sempre lì no e e quindi avessi paura già di perdere quello che hai e quindi proprio c'è una forma di trattenere che che non va bene quindi questa torre e ci sarà un qualcosa che ti permetterà di lasciare andare questo non dico pensiero ossessivo però questo attaccamento al risultato e questo sarà il la chiave per arrivare a un sei di denari cioè per arrivare finalmente ad un equilibrio fra ciò che dai e ciò che ricevi andiamo a vedere le carte di chiarimento un altro arcano maggiore ragazzi il giudizio che meraviglia il dieci di coppe il sette di spade fatemelo vedere un attimo al contrario allora aspettate che le metto più su ok allora ragazzi sono carte bellissime c'è un inizio siete ancora in una fase mi viene da dire nei momenti in cui vedete il video di correzione di certe dinamiche riguardo proprio il vostro rapporto col denaro il vostro atteggiamento questo verso il denaro però qui c'è una torre su un giudizio quindi qui arriva indipendentemente dal vostro atteggiamento che comunque modificherete qui arriva proprio un qualche una chiamata importante ecco perché poi c'è il mago il carro anche una chiamata importante che vi vi porterà ad una grande un grande appagamento una grande felicità dal punto di vista economico finanziario e mi viene da dire che questo sei di denari che mi va ad agire su un sette di scusate si sette si si sette di spade su un sette di spade al contrario e proprio è come se finalmente trovaste il vostro equilibrio fra ciò che date ciò che ricevete ma soprattutto nei confronti del denaro mi viene da dire come se prima foste o eccessivamente timorosi di perdere o di trovarvi in una situazione di perdita dal punto di vista economico finanziario ma è per passare poi magari a dei momenti di estrema non estrema comunque dei momenti di un po' come posso dire in consapevolezza sulla gestione del denaro qui nei prossimi tre mesi c'è un innanzitutto c'è una un'occasione un'opportunità bellissima che vi arriva che vi porta veramente ad una ad un grande appagamento abbiamo il mago il carro il giudizio dieci di coppe quindi qui arriva un qualcosa di inaspettato con la torre quindi qualcosa che non vi aspettate ma che vi porterà ad una finalmente ad un appagamento dal punto di vista qui parliamo di situazione economica finanziaria quindi dal punto di vista economico finanziario questo vi permetterà sia questo diciamo evento che arriva dall'esterno questa chiamata questa opportunità di trovare un equilibrio fra ciò che date e ciò che ricevete quindi un equilibrio mi viene da dire anche nel conto in banca fondamentalmente le uscite e le entrate e le uscite mensili fondamentalmente no ed è questo un po' che che modificherete nei prossimi tre mesi proprio una migliore gestione della situazione economico finanziaria grazie anche ovviamente a questa opportunità questa bellissima opportunità che arriva scusate c'è una moschina che arriva quindi è una bellissima lettura prima variante sei ancora in una prima fase un po' così però usate ma c'è questa mosca che non se ne va però abbiamo subito la torre cioè mi parti già con la torre quindi questa opportunità sta arrivando è molto arriva molto velocemente perché la torre è subito all'inizio con il giudizio subito all'inizio la torre sul giudizio quindi qui sta arrivando veramente qualcosa di bello di importante per te dal punto di che ti darà un appagamento una serenità dal punto di vista economico finanziario ok bene prima variante io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao eccoci qua seconda variante biglia verde trasparente allora andiamo a vedere anche per te come si evolverà la situazione economico finanziaria nei prossimi tre mesi entro tre mesi da quando apri il video prima di partire ti ricordo che se fra coloro insomma della seconda variante c'è qualcuno interessato a conoscere il mondo dei tarocchi la simbologia a approcciarsi quindi a questo bellissimo mondo dei tarocchi per conoscere meglio se stesso per imparare a leggerli insomma per qualsiasi scopo e io faccio percorsi solo individuali perché ognuno ha il proprio approccio ognuno ha il proprio vissuto e ricordatevi che quando si arriva a interpretare e a sviluppare l'intuizione nella lettura dei tarocchi è molto importante anche proprio la propria esperienza di vita c'è un vissuto che comunque va a contribuire e quindi il percorso individuale è un arricchimento incredibile reciproco fra l'altro anche anche per me ed è molto stimolante per chi appunto vuole imparare vuole approcciarsi a questo mondo se desideri avere informazioni o sei interessato mi puoi scrivere su whatsapp al 351 682 4400 allora partiamo con gli oracoli prendiamo oracolo dagli spiriti degli animali allora abbiamo lo spirito del coniglio un periodo fortunato beh ragazzi direi che partiamo molto bene quindi i prossimi tre mesi questo oracolo e lo spirito del coniglio ci dice che saranno tre mesi fortunati dal punto di vista dello sviluppo della situazione economico finanziaria vediamo un oracolo delle femmine in wisdom questa è rimasta giù e la prendiamo ifigenia riflettere sui nostri bisogni allora ifigenia parla di un distacco necessario quindi anche proprio da una situazione familiare in particolare ma comunque potrebbe essere allora ci sono tanti messaggi in questa in questa in questa carta in questa carta oracolare la dia ifigenia ti pare innanzitutto di capire bene quali sono i tuoi bisogni in questo caso dal punto di vista economico finanziario ma anche dal punto di vista realizzativo per poi manifestare abbondanza economico finanziaria e per alcuni qui parla del sacrifice sacrificio e il messaggio chiave di ifigenia è quello di di un distacco necessario per essere indipendenti per essere finalmente autonomi e soprattutto per realizzarvi come desiderate qualsiasi sia il tipo di distacco quindi mi viene da dire che questo periodo fortunato scusate la quota di Salomone questo periodo fortunato è una conseguenza di un distacco che avverrà e che voi sentirete necessario per proprio avanzare nella vostra vita da un punto di vista di realizzazione personale quindi anche economico finanziario andiamo a vedere adesso con i Tarot of Oppositions allora qui abbiamo un cavaliere aspettate che guardo un attimo ok sì un cavaliere di spade al contrario vedete il cavaliere di spade al contrario è proprio mentre il cavaliere al dritto il cavaliere di spade al dritto è una carta di azione di azione veloce verso qualcosa verso una direzione il cavaliere di spade al contrario è proprio come se ci fosse un fosse trattenuto ecco perché è necessario un distacco da qualcosa qualsiasi cosa sia ognuno poi lo sa lo saprà se è la tua variante ovviamente se ti risuona sarà fondamentale per aprirti a un periodo molto fortunato nei prossimi tre mesi allora vediamo abbiamo il 2 di denari il wow il 6 di bastoni guardate aspettate che guardo questo è al dritto ok e il 3 di denari bellissime allora che cosa succede nel momento in cui vi staccate da un qualcosa di vecchio da un qualcosa che vi trattiene nella vostra espansione proprio e manifestazione economico finanziaria succede una cosa bellissima nel senso che vi aprite proprio il 2 di denari è proprio guardate questo folletto capovolto è proprio la carta che vi apre a un cambiamento a un periodo fortunato a un cambiamento con un 6 di bastoni con una grande un grande successo e bellissime collaborazioni bellissime persone molto positive costruttive attorno a voi quindi c'è un netto miglioramento nel momento in cui però ripeto date come posso trasformate queste due carte cioè il cavaliere di spade al contrario e ifigenia quindi c'è è necessario un distacco un lasciare qualcosa per aprirvi al nuovo che è veramente molto 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 positivo vediamo le carte di chiarimento abbiamo il diavolo al contrario aspettate che guardo un attimo perché qui sono un po' miste ok il 5 di spade al dritto e il carro si sblocca veramente qualcosa di importante per voi nei prossimi tre mesi nel momento in cui diavolo al contrario di nuovo rilasciate un attaccamento qui c'è una sorta di attaccamento verso una situazione che non vi permette fino adesso non vi ha permesso di sbloccarvi dal punto di vista economico finanziario dopo c'è in assoluto qui il 5 di spade al dritto il 6 di bastoni mi va a gire su un 5 di spade al dritto il 5 di spade al dritto in questo caso è proprio colui o colei che si allontana da situazioni tossiche da situazioni che non permettono di oh scusate vedo adesso che ecco diavolo e 5 di spade che non permettono che non hanno permesso fino adesso di espandervi e che cosa succede succede che avete un 3 di denari su un carro quindi c'è un netto cambiamento un netto miglioramento un netto avanzamento nella vostra situazione economico finanziaria un periodo appunto fortunato ed è vero nel momento in cui voi rilasciate qualcosa diavolo al contrario e cavaliere di spade al contrario rilasciate un attaccamento verso una situazione vecchia verso qualcosa di vecchio verso una situazione che comunque fino adesso non vi ha permesso di espandervi comunque i prossimi tre mesi previ a questo perché lo farete cioè qui ci sarà un distacco da qualcosa magari anche lasciare un lavoro vecchio per un nuovo per dire cioè non pensiamo a chissà quali cose magari semplicemente così o comunque lasciare andare qualcosa per qualcos'altro ma soprattutto anche per un po' questo quindi magari a livello proprio più semplice una cosa del genere oppure proprio una situazione di vita che che non vi ha permesso di di manifestare quello che desideravate in questo caso appunto una situazione economico-finanziaria pagante quindi saranno tre mesi importanti molto importanti molto positivi con un grande successo una grande realizzazione un grande cambiamento è un periodo effettivamente molto fortunato ma grazie a voi siete voi che date il là non è un qualcosa di esterno siete voi che vi allontanerete da qualcosa per poi appunto iniziare un bellissimo periodo dal punto di vista economico-finanziario bene seconda variante io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao